Una delle classi di molecole più importanti presenti sulle etichette degli alimenti sono le proteine. Molecole che all'interno dell'organismo hanno una vasta gamma di funzioni, metabolica, meccanica, strutturale, ne esistono di tutti i tipi e per tutte le funzioni. Insomma, senza proteine non potremmo esistere. Andiamo a scoprirle! Le proteine sono costituite dagli amminoacidi, che sono 20. Non staremo ad elencarli tutti, basti sapere però che gli amminoacidi sono costituite da una parte amminica e da una acidica. Da qui la parola amminoacidi. Questa parte comune a tutti gli amminoacidi permette loro di incastrarsi l'uno con l'altro per formare delle lunghe catene di amminoacidi che vanno poi a costituire le proteine. Poi c'è una parte di ogni amminoacido che è diversa dalle altre e lo rende unico. Le proteine sono quindi dei polimeri, delle catene, più o meno lunghe di amminoacidi attaccati tra di loro. Più in generale le proteine sono anche chiamate peptidi e da qui si diramano gli oligopeptidi, i polipeptidi, in base al numero di residui amminoacidici che compongono la catena proteica. Un po' come per i carboidrati che abbiamo visto nell'altra puntata. In natura le proteine sono costituite in media da circa 300 amminoacidi, ma ne esistono anche di molto più lunghe e di molto più corte. Diciamo che potenzialmente, in teoria, sarebbe possibile attaccare chimicamente un numero infinito di amminoacidi un in seguito all'altro. Tengo per la fine del video il Guinness dei primati dove vedremo qual è la proteina più grande, più lunga e quella più piccola. Considerando 300 amminoacidi come lunghezza media e sapendo che esistono 20 diversi amminoacidi, quante proteine diverse si possono formare? È un numero così grande da non poter essere scritto. Qualcosa come 2 elevato alla 390esima, quindi un 2 seguito da 390 zeri. Un miliardo di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi per 43 volte di possibilità. Inoltre dobbiamo anche ricordare che queste catene di amminoacidi non sono lineari, ma si possono avvolgere in uno spazio tridimensionale e questo avvolgimento è sinonimo ancora di un aumento di variabilità. Sono quindi una delle classi di molecole più eterogenee di tutti gli organismi viventi, proprio per questa capacità di essere modellate, modificate e adattate in base alle situazioni e alle esigenze specifiche di ogni organismo vivente. Le proteine quindi sono un po' come la plastilina, il pongo, il didò. Se sei abbastanza bravo e sai cosa vuoi costruire, puoi modellare praticamente qualunque cosa. Ma poiché in natura nulla avviene per caso, a dirigere i lavori ci pensa il DNA, perché è proprio sul codice genetico che sono scritte le istruzioni per costruire le proteine utili all'organismo, tramite un meccanismo chiamato sintesi proteica. Proprio per questa loro proprietà, quindi, di essere modellate a piacimento, le proteine svolgono pressoché qualunque funzione all'interno dell'organismo. Sarebbe impossibile descriverle tutte, costituiscono i capelli, le unghie, la pelle, alcuni pigmenti. Solo nel corpo umano ne sono state identificate decine e decine di migliaia. E lo stesso vale anche per il resto del mondo animale, vegetale, batterico e virale. Insomma, per tutti gli organismi viventi. Anche gli enzimi sono delle proteine, solo che, anziché avere un ruolo strutturale, hanno un ruolo biologico attivo nelle reazioni del metabolismo. Ad esempio, la lattasi è un enzima che consente di digerire il lattosio, ovvero è una proteina con una funzione metabolica. Però, cosa succede quando mangiamo le proteine? Le proteine ingerite, per come sono fatte, sono in gran parte inutili al corpo umano. Hanno ruolo strutturale ed enzimatico all'interno dei sistemi biologici a cui appartengono, ma il loro ruolo spesso non serve a niente all'interno di un organismo diverso da quello da cui derivano. Un esempio pratico che possiamo toccare con mano è quello della clorofilla, che all'interno degli organismi vegetali svolge un ruolo fondamentale, ovvero dà origine alla fotosintesi clorofiliana, ma una volta ingerita la clorofilla all'interno dell'organismo umano, questa perde ogni tipo di funzione. Quando le proteine raggiungono lo stomaco, iniziano delle reazioni chimiche che le smontano letteralmente in oligopeptidi, quindi piccole catene di amminoacidi, e successivamente nell'intestino, per azione di enzimi intestinali, tutto viene riportato allo stadio dei singoli amminoacidi. A questo punto, una volta ottenuti i mattoncini base e gli amminoacidi, questi possono subire due diversi destini. Rimontare i mattoncini in un ordine diverso, quindi sintetizzare proteine utili all'organismo, sempre su istruzione del DNA, oppure se sono presenti in eccesso possono essere bruciate per creare energia o convertite in grasso di deposito. In pratica è come se ci regalassero una casa fatta di legno, che però a noi non piace, quindi decidiamo di smontarla e ne creiamo un'altra, sempre fatta di legno, però a nostro piacimento. E se avanza qualche pezzo di legno, possiamo farne una bella catasta e aspettare di bruciarlo per quando farà freddo. Poi però brucia anche la casa, che è di legno. Le proteine, proprio per le loro funzioni, si trovano ovunque, ma principalmente si trovano nelle carni, nei latticini, nelle uova, nel pesce, nei legumi. Teniamo conto che proteine di diversa origine contengono amminoacidi diversi, quindi le fonti proteiche non sono tutte uguali. L'organismo per sopravvivere ha bisogno di tutti gli amminoacidi, ad esempio il triptofano, però non è detto che il triptofano sia contenuto in tutte le proteine. In alcune c'è, in altre no. Oltre alla questione qualitativa, quindi quali amminoacidi sono contenuti all'interno di una proteina, dobbiamo ragionare anche sulla quantità di proteine contenute all'interno di un alimento. Spesso sentiamo dire che le lenticchie possono sostituire le carni nell'apporto delle proteine, ma se in una carne di pollo troviamo 32 grammi di proteine ogni 100 grammi, nelle lenticchie sono solo 7,6. Significa che devo mangiare almeno mezzo chilo di lenticchie per avere lo stesso apporto proteico in grammi che avrei mangiando semplicemente 100 grammi di pollo. E comunque sarebbero proteine diverse, che poi non è neanche per il mezzo chilo di lenticchie, sono anche buone. Poi c'è il bombardamento. Come già visto nella prima puntata, il metabolismo delle proteine porta alla produzione di circa 17 kJ di energia per ogni grammo di proteina bruciato. Quindi saremmo portati a credere che le proteine hanno lo stesso apporto energetico dei carboidrati. Però non è così, i carboidrati restano la fonte energetica preferita delle cellule. La digestione delle proteine infatti è un processo metabolico molto dispendioso per l'organismo dal punto di vista energetico. Quindi se anche stiamo producendo 17 kJ di energia bruciando un grammo di proteine, in realtà ne stiamo spendendo tantissimi proprio perché questo processo avvenga e alla fine il bilanciamento è molto inferiore rispetto ai 17 kJ. Prima di terminare, il Guinness dei primati delle proteine che avevo promesso all'inizio. La proteina più abbondante in natura è la clorofilla che serve a svolgere appunto la fotosintesi clorofiliana. La proteina invece con la catena di amminoacidi più lunga è la titina che raggiunge i 30.000 residui amminoacidici. E infine quella più corta è una piccola proteina presente all'interno dei ribosomi costituita da soli 100 residui amminoacidici. Il nostro viaggio all'interno del mondo delle proteine termina qui e nella prossima puntata parleremo di un'altra categoria di cui si sente parlare tantissimo e che troviamo spesso scritta all'interno delle etichette degli alimenti e di cui si fa tantissima confusione. Parleremo degli acidi grassi. Grazie per averci seguito fino a questo punto, io vi ricordo che non sono né un nutrizionista né un dietologo e che lo scopo di questa serie è quello di fornire qualche informazione base che vi permetta poi di approfondire e di scaturire la vostra curiosità riguardo a queste importantissime classi di molecole. Quindi se avete bisogno di una dieta, di consigli nutrizionali, vi invito a rivolgervi a personale specializzato che abbia conseguito i regolari titoli di studio e che abbia tutte le carte in regola per svolgere la propria professione. Le informazioni di questo video sono puramente a scopo divulgativo e didattico e servono a soddisfare le vostre curiosità, conoscere qualcosa di più riguardo a quello di cui ci intriamo e appassionarvi alla scienza. Per sostenere Max Relativo potete fare le solite cose come cliccare mi piace, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, bla bla bla. Oppure potete acquistare su Amazon il thriller Coppie Imperfette, che è un giallo a sfondo biotecnologico che tratta in chiave romanzesca alcuni dei temi trattati sul canale. Per organizzare eventi divulgativi a scuola, al cinema, al teatro o dove volete, basta contattarci tramite il nostro indirizzo email. Nell'info box trovate qualche link utile a libri e a siti che sono stati utilizzati per realizzare questa puntata. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata di A Tavola Con. Ciao!